Le persone sono fatte di cellule, i cani, i gatti, le galline, i baobab, i wombat, le rose, i coccodrilli, gli squali. Tantissime cellule. In una persona ci sono centomila miliardi di cellule. Le cellule di cui è composto il nostro corpo e quello di piante e animali superiori sono dette eucariote e sono piccolissime, da 10 a 100 millesimi di millimetro. Queste cellule hanno un nucleo separato che contiene il DNA e numerosi organelli che svolgono le più svariate funzioni. Però ci sono degli esserini ancora più piccoli, 10 volte più piccoli di una cellula acariota, i batteri, che sono formati da una sola cellula di tipo diverso, detta procariota. Alcuni batteri sono utili, come quelli che servono per fare lo yogurt o il formaggio. Molti invece sono dannosi e provocano malattie come la polmonite, il tetano o il colera. E poi ci sono i virus, ancora più piccoli, 10 volte più piccoli di un batterio. Ci sono molti tipi di virus e alcuni causano malattie come influenza, morbillo, varicella, rosolia. I coronavirus sono una famiglia di virus, una banda di canaglie responsabili di cose come il raffreddore, la SARS, la MERS e la COVID-19, che tanto preoccupa in questi giorni. Ma la differenza tra i virus e tutto il resto non sta tanto nelle minuscole dimensioni. Le cellule sono esseri viventi, nascono, si nutrono, si riproducono e muoiono. I virus invece sono cose strane, al confine tra vivo e non vivo. Sono filamenti di codice genetico racchiusi in un involucro, che si impadroniscono di una cellula ospite e la usano per replicarsi, spesso facendola morire. Spero di essere stato utile e di avervi stimolato un po' di curiosità e voglia di sapere. Informarsi è il modo migliore per proteggersi e comunque restate a casa.